Sicuramente, siccome qualcuno dava per scontato l'esito finale, sarà tutt'altro che scontato. Sono quasi 50 giorni e da qua da allora vedremo che scenari... Alla fine la partita sarà una partita davvero aperta, molto molto aperta. Quindi noi non diciamo che vinciamo facile, come magari fa qualcun altro che fa il cradasso. Noi sappiamo che non è... noi partiamo buoni ultimi, siamo partiti molto più tardi degli altri, ma sappiamo anche che abbiamo capacità di... abbiamo dimostrato di avere capacità di governare. E questo poi si ribalta a livello nazionale, perché a livello nazionale oggi esiste solo di fatto Matteo Renzi, dall'altra parte, grazie anche ai comportamenti di Matteo Salvini, dall'altra parte c'è nulla, perché il centro-destra è completamente spaccato, e invece si deve dimostrare che c'è qualcuno che il centro-destra lo sa riaggregare per creare un'alternativa a Matteo Renzi. C'è moltissima attenzione sullo scenario veneto, perché in Veneto si sta delineando lo scenario francese, dove c'è una destra lepenista, populista, che poi alla fine va a perdere, c'è il centro-sinistra che confronta con il centro-destra, in Francia ha vinto il centro-destra, però diciamo chi ha capacità di governo crea l'alternativa. E quindi si sta creando un'alternativa vera di governo che parte dal Veneto, ma sicuramente diventa poi una prospettiva nazionale. Il punto è che mentre prima qualcuno dava per scontato l'esito di queste elezioni, diceva che Flavio Tosi non avrebbe preso alcun voto, che si poteva andare quasi in vacanza, perché tanto avrebbe vinto sicuramente un altro candidato, adesso invece i messaggi cominciano ad essere diversi, e poi quando si vedranno le liste in campo si capirà che la maggioranza di chi ha sostenuto Luca Zai in questi cinque anni, sostiene Flavio Tosi e questo forse dovrebbe anche far riflettere. Beh, Salvini ci dovrebbe spiegare perché lui offende ed insulta area popolare e le sue componenti quando queste hanno sostenuto Luca Zai fino ad adesso, quando queste sostengono in maniera determinante anche oggi Roberto Maroni, quando Salvini sostiene un candidato di area popolare in Umbria ed è alleato e quando Maroni dice che per le prossime comunali di Milano dell'anno prossimo tutto il centrodestra, compresa area popolare, deve essere assieme. E Salvini dimentica anche gli anni di governo nei quali la Lega insieme al resto del centrodestra è stata insieme e Alfano era ministro della giustizia del governo della Lega. E quindi bisognerebbe essere coerenti e rispettosi delle persone e anche della propria storia.